ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco urgo a cosa serve urgo a un parafarmaco appartenente alla categoria degli medicazioni per ferite piaghe ulcere altre è commercializzato in italia dall'azienda quali farma srl informazioni commerciali titolare quali farma srl concessionario quali farma srl categoria di appartenenza medicazioni per ferite piaghe ulcere altre confezioni urgo cerotto riscaldante indicazioni dolori muscolari dolori torcicolo e lombalgie dolori articolari ginocchia gomiti spalle modalità d'uso dopo l'apertura del sacchetto applicare il cerotto riscaldante urgo sulla zona dolorosa a contatto con l'aria il processo di calore viene attivato e il cerotto raggiunge gradualmente la sua temperatura ottimale non applicare piadi 8 h sulla stessa area descrizione e caratteristiche una fonte attiva di benessere e di comfort la termoterapia un metodo naturale tradizionalmente utilizzato in reumatologia per alleviare i dolori provocati dalle tensioni muscolari ed articolari il calore permette infatti una migliore ossigenazione dei muscoli e una migliore eliminazione delle tossine responsabili delle contratture una diffusione ottimale e mirata del calore a contatto con l'aria i componenti naturali del cerotto carbone attivo e polvere di ferro reagiscono e rilasciano 8 ore di calore piacevole costante e rilassante utilizzato sulla pelle il cerotto riscaldante urgo diffonde il suo calore in profondità per un benessere ottimale i vantaggi del cerotto riscaldante urgo l'adesivo specifico del cerotto riscaldante urgo garantisce 8 ore di tenuta e assicura una rimozione facile e indolore il suo sostegno morbido piacevole e flessibile vi lascia liberi nei vostri movimenti infine allevia il dolore in tutta discrezione essendo in odore avvertenze come tutte le fonti di calore questo prodotto può causare delle scottature è importante seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato